I toscani che leggono libri sono ancora troppo pochi e quelli che lo fanno varcando le soglie di una biblioteca sono ancora meno. Per invertire questa tendenza, la vicepresidente della regione toscana Monica Barni ha lanciato il patto per la lettura, un'alleanza tra tutti i soggetti della filiera del libro, pubblici e privati, da tradurre in un protocollo d'intesa per far diventare la lettura un'abitudine quotidiana diffusa. La ribalta scelta è stata quella di Libri in Festa, la due giorni di eventi, incontri, mostre e maratone di lettura organizzata dalla regione e dall'Associazione Culturale Lanottola di Minerva con il Comune di Firenze, tra l'ex carcere delle murate e la biblioteca delle oblate a Firenze. Obiettivo dichiarato è riconoscere il diritto alla lettura come fondamentale per tutti i cittadini contro povertà educativa ed esclusione sociale. Il patto della lettura è un punto di arrivo ma anche un punto di partenza, un punto d'arrivo perché è il risultato di tutti questi anni di lavoro insieme a tutti i soggetti della filiera del libro a partire appunto dalle 12 reti bibliotecari e documentari della Toscana che raccolgono le biblioteche e archivi della Toscana, ma è anche un punto di partenza perché è un momento in cui occorre un'alleanza ancora più forte fra tutti i soggetti per far sì che la lettura diventi un'abitudine sociale quotidiana. I dati Istat su chi legge e soprattutto su quanto si legge sono impietosi sia a livello nazionale che regionale. Nel 2016 le persone con più di sei anni che hanno letto almeno un libro nell'arco dell'anno precedente sono state il 40,5% del totale in Italia e il 44,2% in Toscana. E sempre in Toscana il 70% della popolazione non ha mai messo piede in una delle tante biblioteche esistenti sul territorio. Il sistema documentario ne conta 1100 insieme a 12 reti documentarie locali e 44 grandi istituzioni culturali. I dati che riguardano il nostro paese e la Toscana sono dati per niente confortanti perché abbiamo poche persone che leggono i libri, soprattutto poche che leggono libri una volta usciti dal percorso scolastico. Abbiamo il 70% della popolazione toscana che non è mai entrata in una biblioteca. Per me questi sono dati drammatici. Sono dati drammatici che fanno il paio con quelli relativi ai livelli di alfabetizzazione del nostro paese. Quindi è un problema culturale ma è anche un problema sociale e civile. L'obiettivo della Toscana, ha detto al Libri in Festa l'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco, è quello di instillare nei giovani sin dall'età infantile, già dall'asilo nido, la passione per i libri. Di progetti di apprendimento dalla nascita e di inclusione la regione ne ha già dispiegati in passato molti e ora è in arrivo una specifica azione regionale per educare alla lettura. Se si chiede ai bambini quanto leggono, quanti libri hanno in casa, quanto leggono i loro genitori, ne emerge appunto un quadro che ci fa riflettere e che vogliamo tentare di migliorare. Quindi noi all'interno delle nostre politiche educative nei territori, nelle nostre zone educative, appunto metteremo in campo un'azione di sistema proprio sul tema della lettura, un'azione riconoscibile della regione toscana e come siamo abituati a fare, non la costruiremo solo all'interno del nostro assessorato, avremo sicuramente delle sinergie anche con ciò che sta facendo la vicepresidente Barni, quindi anche con l'assessorato alla cultura. Una collaborazione che ha preso le mosse già dall'avvio della maratona di lettura sulle pagine di Se questo è un uomo di Primo Levi, lette ad alta voce dalla vicepresidente della regione Monica Barni e dall'assessore Cristina Grieco al primo piano dell'ex carcere delle Murate, insieme a dei performer che sui ballatoi tra le vecchie celle hanno recitato il testo. Anche questo è un modo per invitare tutti ad addentrarsi tra le pagine dei libri. Il messaggio è leggere, è importante. La regione toscana vuole investire sull'educazione alla lettura, partendo dalla più tenera età, quindi dai nidi, quindi io dico sempre dai tre mesi, fino ai 99 anni, perché noi siamo in un mondo dove veramente si deve parlare di apprendimento permanente per tutta l'arco della vita. E allora dal nido, dalla più tenera età, si può educare a leggere, naturalmente con gli strumenti adeguati allo sviluppo dei bambini, però fino anche all'età matura, all'età adulta, quindi un po' come le scatole del Monopoli, dai tre mesi ai 99 anni, leggere è importante. Un invito che nel corso di Libri in Festa è stato rivolto anche in chiave visiva, con le mostre che si sono affiancate agli incontri e ai reading, i libri e le pagine immortalate nei quadri di Andrea Mancini, raccolti nella mostra Ex Libris e le illustrazioni segnate da Orizzonte Onirici nella mostra Voglio scrivere una poesia di Arianna Papini, e poi una rassegna delle buone pratiche che dà tempo alla regione di Spiega per invitare alla lettura, anche con la partecipazione ai festival letterari, e ancora una fermata speciale per Libri in Festa del Bibliobus, che porta i libri in giro per le strade della città. Questo è il nostro desiderio, far capire che leggere è fondamentale per la crescita di ciascun individuo, dai grandi ai piccini, ed è tutto questo circuito che abbiamo ricostruito, è il benessere della nostra società. È un circuito, un circolo virtuoso, che dà la forza a tutti noi per continuare questa militanza che è la promozione del libro e della lettura. Il problema emerso nel corso dei Libri in Festa è che leggere resta sempre un'abitudine molto legata al contesto socioculturale di appartenenza, e che dopo la fine del percorso scolastico si assiste a un crollo della propensione alla lettura, che da obbligo diventa una scelta. Anche da qui la necessità di adottare strategie e metodi, soprattutto a scuola, che sappiano stimolare l'interesse. Il docente deve essere veramente un allenatore, quindi deve anche saper dire, saper consigliare delle letture, ma anche lasciare un minimo di possibilità di scelta ai ragazzi, che così si sentono anche più protagonisti del loro percorso, delle loro scelte, del loro orientamento anche alla lettura. Per raggiungere questo obiettivo, uno degli elementi cruciali del patto per la lettura lanciato dalla Regione Toscana è il coinvolgimento e la formazione di tutti coloro che i libri li producono e li distribuiscono. Le professioni del libro, ben rappresentate al Libri in Festa, sono tante e spesso poco considerate, dai bibliotecari ai librai, fino agli editori e agli scrittori. All'interno del patto abbiamo messo un punto proprio anche sulla formazione e l'aggiornamento. E' chiaro che in particolare le biblioteche, ma in generale il libro, hanno cambiato modalità, hanno cambiato strumenti, hanno cambiato funzioni e per questo occorrono figure professionali specializzate, sempre più specializzate. Già con il progetto Leggere in Toscana, la Regione ha avviato un percorso per mettere insieme tutte le biblioteche toscane e le 12 reti documentarie di cui fanno parte, con 1.200.000 euro per il 2018. Quest'anno poi è stata anche finanziata un'iniziativa contro l'esclusione sociale rivolta all'accoglienza e in particolare di persone con disabilità all'accessibilità nei musei e nelle biblioteche.